176 convogli per un investimento da 1 miliardo e 600 milioni di euro. La regione Lombardia imprime un radicale cambio di passo al trasporto su ferro e come annunciato nei giorni scorsi presenta il primo gioiello della nuova flotta frutto dell'accordo quadro siglato da FNM, Ferrovie Nord. Si tratta di uno dei 105 Caravaggio della Itaci ad alta capacità cui si aggiungeranno 41 donizzetti di media capacità della Alstom e 30 colleoni ibridi della Stadler. La fornitura, spiegano i vertici di Ferrovie e regione Lombardia, procederà a ritmo di due treni al mese. I primi 15 dovrebbero essere sulla rete, mi spiegavano, entro febbraio. Poi da aprile inizieranno ad esserne forniti due ogni mese. Quindi vi rendete conto che perché ci siano dei tangibili segnali bisognerà arrivare ad averne almeno 70-80. Intervenuta al deposito di Fiorenza, l'assessore alle infrastrutture e trasporti, Claudia Maria Terzi, ha voluto sperimentare personalmente il ruolo di macchinista. Giusto il tempo di una fugace emozione, visto il periodo di intensa formazione che la guida di questi giganti prevede. Voi avrete sentito le frenate d'emergenza, è bello, molto emozionante, ma devo dire che le frenate che avete sentito sono i famosi sistemi di sicurezza che intervengono automaticamente. Questo vi fa dire e ci fa dire che ovviamente il lavoro del macchinista è un lavoro particolarmente professionale, cioè veramente è la preparazione che serve per guidare ogni singolo treno, è una preparazione specialistica. È il motivo per cui il treno che vedete oggi, insomma, non solo è già stato provato dai nostri macchinisti, è già stato studiato dai nostri macchinisti, ma non potrà entrare in funzione, per esempio, oggi pomeriggio, poiché la formazione di tutto il personale necessita di qualche, nel loro caso giorni, per me ci vorrebbero anni, ma nel loro caso ovviamente di almeno una settimana, due settimane di preparazione. I primi Caravaggio sono destinati alla linea S11, Chiasso, Como, Milano, Porta Garibaldi, Ro. Perché secondo i criteri che i tecnici hanno elaborato, secondo quindi i criteri oggettivi, la S11 è la linea che maggiormente soffre del problema treni, problema flotta particolarmente vetusta, e quindi ovviamente piuttosto che disperdere cinque treni e sostanzialmente dare degli apporti positivi, ma molto contenuti, a cinque direttrici, abbiamo preferito invece inserirli tutti in una direttrice che veramente sta soffrendo, soprattutto negli ultimi mesi, moltissimo rispetto alle soppressioni, rispetto ai ritardi relativamente o in conseguenza del fatto che il materiale rotabile sia molto vecchio. Quindi si parte dalla S11 proprio perché era la linea su cui l'elemento materiale rotabile era l'elemento di criticità maggiore. Ed ecco le caratteristiche tecniche dei nuovi convogli ad alta velocità. 136,5 metri di lunghezza, 629 posti a sedere, due bagni, 10 porte per ciascuna fiancata, 18 spazi destinati alle biciclette e una velocità di 160 km l'ora. A questo si aggiungono attacchi USB, luci a LED, pedane mobili per il caricamento delle sedie a rotelle, sistemi di frenata ultramoderni, drastica riduzione dei consumi di energia. Diciamo che c'è 50 anni di differenza rispetto ai treni che sostituiranno. La parte più significativa è l'accelerazione alla frenata che non è di tipo ferroviario ma di tipo metropolitano. Quindi ci sarà un vantaggio calcolabile addirittura nei 5 minuti giornalieri. Sono in accelerazione in frenata. Poi gli aspetti di ergonomia interna che consentirà anche, oltre alla comodità, di avere la presa USB, la presa elettrica, tutto ciò che comporta il maggior transito di comfort, paragonabile ovviamente non con un concetto di TPL come purtroppo si è abituati, ma più all'avanguardia a livello europeo. Infine una curiosità. Le telecamere di sicurezza potranno essere presto collegate a un software capace di riconoscere i volti dei passeggeri, segnalando in tempo reale la presenza di persone sospette o già note alle forze dell'ordine. Quella appena avviata, sottolinea, soddisfatto il governatore Fontana, è una vera e propria rivoluzione destinata a cambiare il volto del trasporto ferroviario dal punto di vista dell'efficienza, della sicurezza e della qualità. Ci vorrà ancora del tempo perché si concluda, ma questa è la prova che stiamo lavorando con la massima determinazione per rendere finalmente il nostro trasporto su ferro degno della Lombardia, degno della grande regione che è la Lombardia.